buongiorno buongiorno in quel di rivarolo mantovano partiamo subito con questo video con l'inquadratura del pilota oggi scusa michele e salutiamo la camera dopo circa un anno si un anno e mezzo di più si ritorna in quel di rivarolo mantovano e avremo la gara a settembre e facciamo questi due giri commentati con dinamite ci siamo in questa pista dove si è più in aria che per terra questo è il fatto di rivarolo per chi non lo conoscesse e andiamo dentro un po' di gente se n'è già andata andiamo dentro a fare due giri questo è tutto il fatto qua è l'ingresso di pista questa mattina molto fangosa adesso si è asciugata diventata parecchialmente polverosa sono un paio di maiali dentro ma nulla di così esorbitanti partiamo subito con uno scrap pronti via l'ingresso qua una serie che va a destra una curva destra raggiata che a me piace molto raggiarla per andare su uno scrap poi anche qua si alleggerisce tanto la moto si va a cercare il canale tutto in piedi per un appoggio esterno adesso c'è questo qua davanti una serie di canali qua aperti e qua si vola questo qua è il sole che è più lungo penso di porta piena anche questo anche questo adesso c'è questo che mi dà fastidio aspettate che provo a superarlo dai lo superiamo nel canale aspetta che me lo volevo un attimo raga me lo volevo un attimino dei coglioni questo qua la Yamaha va forte quello va forte raga impressione ritmica un po' smizzata polvere ben finito raggiata a sinistra vediamo nel canale interno per ritornare sullo scrap nella sezione ritmica a destra quasi quasi ho avuto la pista ma andiamo larghi sull'altro scrap ti alleggerisci qua la moto ma che panettone bello quello ma si va giù a destra nel canale interno sinistra chiude tantissimo questo canale questo è l'unico non piatto che mi rompe i coglioni dopo proveremo a rifarlo e andiamo a scappare come faccio? per poi qui farla come si deve? e andiamo su a sinistra e la scappiamo anche qui mamma mia di parole canale da mondiale io usiamo il canale da mondiale qua andiamo a destra 200 all'ora 200 all'ora qua per andare a affondare e la sezione ritmica la ragazza fa le foto sezione ritmica e la lanciamo anche qui e facciamoci un'altra e perché no? e ce lo facciamo l'altro cibo insieme alla dynamite che ha preso il pro che ha preso il pro dynamite in qualsiasi di valore e facciamo la triccola mamma mia lungo wow oh fortissimo suve tantissimo quanto chiude Questa Riva Rolo si chiama Dinamite Quattro secondi Ricordiamo la gara qua Questa è la Riva Rolo ragazzi Insieme a Dinamite Ci vediamo Nel 28 settembre O fino a settembre Per la gara Allora ci sono una coprò E ritorniamo in vista Che cazzo la Riva Rolo Che brutto Bella rega Ciao